Ti ricordo benvenuti con un nuovissimo video, oggi giocheremo a Fortnite come vedete E sto giocando singolo Vi raccomando iscrivetevi al canale, mettete like E cercherò di superare il 38 che ho fatto nel precedente video Sì vabbè qua è già pieno affollato, ok Non so quante persone Ok buone se vi so Ok righi ho fatto questo così, saliva direttamente qui sopra Ok 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.